No, no, fai presentatore, tu! No, no, fai tu! Dai! Vai, vai! Vai, Mico! Un attimo! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Non ho toccato il brand? No, no, tu che è Mico! Vabbè! 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 Salve e benvenuti ad una nuova sfida! Se solo sfide, niente video, faremo una cosa nuova, mai vista prima, cioè taglieremo una zucca di Halloween! Questo che è Halloween! Dato che noi siamo migliori, abbiamo già il nostro disegno! Lei noi, invece, perché lei è creativa e deve fare tutto molto pezzo, una roba del genere, quindi lasciamo a fare quello che vuole! E... Bene, hai qualcosa da dire? Di, qualcosa di dire? Iniziamo, perché a questo punto l'hai detto tutto voi! Ok, faccio la cosa, la faccio! Io mi farò del mare! Un attimo! Non può proprio non dare troppo... Un attimo! Non può proprio non dare troppo... Un attimo! Una linea! Si! Ops! Ok! Un attimo! Questo fa un favore! Qua stai pure! Ok, mi fai che è tipo a Minecraft con... Buonan... Un attimo! Un attimo! Ci ha mai? Nooo! Voglio ammalato? Io mi ho detto che eravamo più grande! Aiuto! Attenzione! è mia date via è mia sì mi sono fatto un po' piccolo cervello eeeh eeeh the brain Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io lo sono fatto a casa. Appunto. E dopo l'ho portato. Avete giocato. Sì, è la vita di creatività, di aver fatto la mano libera. E l'ho fatto la mano libera quando ero a casa. Eh, mi piace ma la vittoria è scontata. Dipendetemi. Dipendetemi. Vabbè, diciamo che se vi è piaciuto questo video, divertente o non divertente, mettete un mi piace. Passate da loro, se quando... Non lo faremo, 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 non lo faremo. Interroggio, mio Dio. Sono molto... Lasciate un commento se volete fare altre sfide. No? Se vogliono altre sfide... Alla troppo in me, diciamo non lo faremo. Io non ho come... La propone che scrive, non lo faremo, non lo faremo. Lo sia anche qui cosa. Si no, non lo faremo, non lo faremo. Anche qui? Sì. No. Ciao! Ciao!